Un articolo su Forbes, un gemellaggio tra Palazzo Cozza Caposavi di Bolsena e Palazzo Debbin a Sutri, una rete di proprietari di dimore storiche che nasce, prende forma e cresce. Incontreremo Francesco Cozza, proprietario di Palazzo Cozza Caposavi a Bolsena, Vittorio Sgarbi, curatore di Palazzo Debbin a Sutri, Claudia Mercuri, assessore al turismo e al talento del comune di Sutri, Antonio Mancini Caterini, proprietario del castello di Santa Cristina a Grotte di Castro, Cecilia Cecchini Bisoni, proprietaria del castello di Proceno, Giovan Giorgio Afan de Rivera, proprietario del castello Costaguti a Roccalvecce, Giovanni Di Carpegno a Falconieri, definito da Vittorio Sgarbi, ultimo esponente della scuola romana a Palazzo Francesoni di Vetralla, Gianni Casciani del Wine Gallery Vesconte di Bolsena. Grazie a tutti.